I problemi di ottimizzazione, problemi di natura analitica in cui si cerca di ottimizzare un parametro all'interno di un problema molto generico, possono chiaramente avere nature estremamente diverse a seconda del contesto. Il problema che si amminiamo oggi è un problema geometrico, non banale, per affrontare il quale sarà necessario utilizzare tecniche della geometria euclidea e tecniche dell'analisi matematica. Leggiamo il testo. Il segmento AC in figura misura 2R, mentre la corda DE della semicirconferenza è parallela ad AC. Determina il triangolo D e B che abbia A, perimetro massimo, B, area massima. Riesaminiamo il testo alla luce dei dati forniti della costruzione geometrica già fatta. Il segmento AC è essenzialmente il diametro di una semicirconferenza disegnata qui sotto. Ho anche evidenziato il centro O di questa semicirconferenza. Il segmento DE è una corda e per ipotesi è parallela al diametro AC. Dopodiché, superiormente rispetto alla semicirconferenza, è disegnato un triangolo ABC in cui sono già predisposti due angoli, un angolo in corrispondenza del vertice A e un angolo in corrispondenza del vertice superiore B. Si vuole fare in modo che la scelta arbitraria del punto D da cui parte il segmento DE parallelo ad AC porti, in un primo caso, al perimetro massimo per il triangolo DBE, quello evidenziato qui in figura, e in una seconda fase si cerca di ottimizzare l'area rendendola massima. Ovviamente si tratta tecnicamente, a partire dalla stessa costruzione geometrica, di due problemi di ottimizzazione diversi. Uno riguarda il perimetro e uno riguarda l'area. Non è detto che l'ottimizzazione sia contemporanea, cioè che la scelta del perimetro massimo porti anche all'area massima. L'esame più approfondito del problema ci permetterà di capire se c'è un'unica soluzione per i due problemi o bisogna adottare due soluzioni separate. Per studiare meglio il problema ed esaminare in che modo affrontarlo, prima geometricamente e poi analiticamente, andiamo a riprodurre lo stesso schema su un software di geometria dinamica, in particolare GeoGebra in questo caso. Ecco la costruzione riprodotta su GeoGebra. Come prima cosa andiamo a esaminare il triangolo ABC, qui evidenziato, e dimostriamo che si tratta di un triangolo isoscele. In base alle ipotesi, l'angolo in basso a sinistra, nel vertice A, è un angolo di 45 gradi, mentre l'angolo al vertice in alto, l'angolo nel vertice B, è un angolo retto. È chiaro quindi per differenza, visto che la somma degli angoli interni deve essere un angolo piatto, che anche l'angolo nel vertice C, in basso a destra, deve essere di 45 gradi. Un triangolo che abbia gli angoli alla base congruenti è necessariamente isoscele, quindi il segmento AB e il segmento BC sono congruenti. Questo ha delle conseguenze, visto che il triangolo è isoscele, segue che il punto B appartiene necessariamente all'asse del segmento AC. L'appartenenza del punto B all'asse del segmento AC, dal momento che O è il punto medio del segmento AC, implica che il segmento BO è esso stesso parte dell'asse del segmento e quindi è perpendicolare al diametro AC. Ovviamente il segmento BO, in questo modo, rende rettangoli il triangolo AB e il triangolo BCO. Questi due triangoli sono entrambi rettangoli e sono di conseguenza anche isosceli. Infatti, con lo stesso ragionamento che abbiamo fatto sul triangolo ABC, segue che l'angolo in A è 45 gradi, l'angolo in O è retto e quindi anche l'angolo in B si divide in due parti che sono necessariamente tutte e due di 45 gradi. Di conseguenza ci ritroviamo con due triangoli rettangoli isosceli e quindi il segmento OB ha la stessa lunghezza del segmento OC ed è uno dei raggi della circonferenza. Questo, tra l'altro, ci dà altre informazioni sulla costruzione geometrica perché se la semicirconferenza viene completata del tratto mancante in alto otteniamo che il punto B fa parte di questa circonferenza. Ora, torniamo di nuovo al segmento BO che è perpendicolare al diametro AC. Se lo prolunghiamo fino ad incontrare il segmento DE, cioè la corda, otteniamo un segmento che è a sua volta perpendicolare al segmento DE. Indichiamo con F il piede di questa perpendicolare. Perché questa perpendicolarità? Per il semplice fatto che nelle ipotesi la corda DE è parallela al diametro AC e quindi ogni segmento che sia perpendicolare alla C è perpendicolare anche alla corda. Ora tracciamo i segmenti DO e O. Entrambi sono raggi, quindi sono di uguale lunghezza ed entrambi pari alla lunghezza del raggio. Esaminiamo i triangoli DFO ed EFO. Tali triangoli sono necessariamente congruenti, infatti il cateto OF è comune, poi entrambi hanno un angolo retto, sono triangoli rettangoli e l'ipotenusa DO è congruente con l'ipotenusa OE in quanto entrambi raggi della stessa circonferenza. Per cui i due triangoli sono congruenti per il primo criterio di congruenza generalizzato per il triangolo di rettangoli, avendo due lati congruenti, un cateto l'ipotenusa oltre all'angolo retto. Questo ci porta a delle conseguenze. In particolare il segmento DF e il segmento FE sono necessariamente congruenti fra di loro. La congruenza di questi due segmenti ci permette di dimostrare la congruenza di altri due triangoli, il triangolo BDF e il triangolo BEF. Questi due triangoli sono congruenti perché il segmento BF è un cateto comune, sono entrambi rettangoli perché hanno gli angoli retti in corrispondenza del vertice F, e poi il cateto DF è congruente col cateto FE come abbiamo ora discusso. Di conseguenza sono congruenti per il primo criterio di congruenza perché hanno due cateti e l'angolo retto compreso in comune. La congruenza di questi due triangoli rettangoli fornisce un'altra informazione, precisamente il lato BD e il lato BE, che sono le due ipotenusa di due triangoli rettangoli, sono congruenti fra di loro. E questo ci dice che il triangolo BDE è un triangolo isoscele. Tutta la figura risulta essere simmetrica rispetto all'asse BF. La congruenza di questi due segmenti e il fatto che il triangolo sia isoscele ci permette di calcolare le due funzioni obiettivo del problema, cioè il perimetro e l'area, lavorando semplicemente su metà triangolo, per esempio sul triangolo BDF. Per calcolare l'area possiamo calcolare il prodotto della base DF per l'altezza BF e senza neanche dividere per due, perché se non dividiamo per due otteniamo di fatto l'area del triangolo completo. GeoGebra, nell'eseguire il prodotto DF per BF, ci ha calcolato l'area in unità di R², visto che tutte le lunghezze sono in unità del raggio. Il valore numerico ovviamente è specifico per la particolare posizione che è stata data al punto D. Se noi variamo la posizione del punto D, chiaramente il valore dell'area cambia. L'ottimizzazione in questo caso consiste nel trovare il massimo di quest'area. Ma prima di lavorare su questo, andiamo a ragionare sul perimetro. Il perimetro del triangolo isoscele BDE può essere calcolato semplicemente come semiperimetro, alla fine massimizzare il perimetro corrisponde col massimizzare il semiperimetro, sommando semplicemente il lato obliquo di B con la semibase di F. Anche qui, se cambiamo la posizione del punto D, varia il valore del perimetro così ottenuto. Possiamo cominciare a esplorare l'eventuale possibilità di ottimizzare queste due funzioni obiettivo. Se andiamo a spostare il punto D dalla prima posizione estrema corrisponde con la coincidenza del punto D con il punto A. In questo caso il triangolo ABC isoscele e il triangolo DBE, anch'esso isoscele, coincidono e quindi coincidono aree e perimetri. Vediamo per il semiperimetro un valore di 2,41 e per chiaro è un valore di 1. Quando spostiamo invece D all'altro estremo, cioè nella parte più bassa della semicirconferenza, otteniamo chiaramente un triangolo che degenera in un segmento. Spostare il punto D oltre produce una situazione che è esattamente simmetrica alla precedente, quindi non è interessante per lo studio del tipo di ottimizzazione che stiamo facendo. Quindi i nostri estremi nel cercare di ottimizzare il problema sono questi due, posizione A e posizione in basso. Ovviamente adesso si tratta di scegliere una variabile indipendente per studiare analiticamente il problema. Una delle possibili variabili indipendenti che possiamo scegliere è l'angolo formato dal raggio OA con il raggio OD. Lo chiamiamo x ed è qui evidenziato. Il valore di quest'angolo può variare chiaramente da 0, quando il punto D coincide con il punto A, fino ad un massimo di π, quando il punto D si trova nella posizione più bassa. E quindi per questa eventuale variabile dobbiamo scegliere il seguente intervallo, 0 minore o uguale x minore o uguale π, che rappresenterà il dominio delle due funzioni obiettivo, semiperimetro ed area. Chiaramente non è l'unica scelta possibile, ce ne sono altre. Ad esempio, chiamiamo con x il segmento DF, i suoi estremi sono chiaramente 0 quando D si trova in basso e il raggio quando D si trova in alto. E quindi dovremmo scegliere l'intervallo 0R per quanto riguarda il dominio delle funzioni area e semiperimetro. Neanche questa esaurisce le possibili scelte per quanto riguarda la variabile indipendente, ma chiaramente noi affronteremo il problema facendo una scelta, scegliendo come variabile l'angolo, utilizzando quindi come dominio delle funzioni obiettivo l'intervallo 0π, questo richiederà l'uso di funzioni goniometriche per quanto riguarda le lunghezze dei segmenti richiesti, sia per calcolare l'area, sia per calcolare il semiperimetro. Passiamo quindi al calcolo delle funzioni obiettivo, ovvero l'area e il semiperimetro del triangolo di BE. Per quanto riguarda l'area, abbiamo già stabilito che può essere calcolata seguendo semplicemente il prodotto della semibase DF per l'altezza BF. Ora, avendo stabilito di scegliere come incognito del problema di ottimizzazione l'angolo x formato dal raggio OA con il raggio OD, è chiaro che per calcolare la lunghezza del segmento DF è possibile eseguire il prodotto dell'ipotenusa DO del triangolo DFO per il coseno dell'angolo adiacente tra il cateto e l'ipotenusa. E' chiaro che quest'angolo coincide con l'angolo x riportato qui, in quanto i due angoli sono alterni interne rispetto alle due rette parallele tagliate dalla trasversale di O. Per cui possiamo dire che la lunghezza del segmento DF è data dalla lunghezza di OD, che è il raggio, per il coseno di x. OD è uguale al raggio. Per cui DF è pari al raggio per il coseno di x. Analogamente, se vogliamo calcolare la lunghezza dell'altezza del triangolo, cioè DF, dobbiamo sommare al segmento OB, che è anch'esso pari al raggio, il segmento OF. E da qui, dall'analisi dello stesso triangolo rettangolo, DFO, si può chiaramente vedere che OF si può essere calcolato come prodotto del raggio R per il seno dell'angolo x. E a questo punto l'altezza BF, questo segmento qui, può essere calcolata sommando alla lunghezza di OF il valore del raggio BO. E quindi abbiamo R più R seno di x, o raccogliendo il valore del raggio, R per 1 più seno di x. Da questo momento in poi, convenzionalmente assumiamo di misurare tutte le lunghezze in unità di R. Utilizziamo cioè il raggio come unità di misura e quindi, per esempio, le aree saranno misurate in unità di R al quadrato. In questo modo non abbiamo la necessità di riportare su tutte le lunghezze il fattore R. Diremo semplicemente che la semibase di F è pari al coseno dell'angolo, mentre l'altezza è pari a 1 più seno di x, 1 più il seno dell'angolo. A questo punto possiamo certamente dire che l'area del triangolo è pari al prodotto di DF, la semibase, per l'altezza BF. Prendiamo i valori di questi segmenti da qui e da qui e otteniamo così per l'area il valore di coseno di x per 1 più seno di x, specificato in unità del raggio. E questa è la prima delle funzioni obiettivo. Possiamo lavorare direttamente sulla massimizzazione di questa funzione obiettivo prima di trovare l'altra, cioè il perimetro del triangolo. Chiamiamo l'area, anziché semplicemente come area come funzione ad x, visto per richiamare che si tratta di un'area. Ad x quindi è il coseno di x per 1 più seno di x. A questo punto sappiamo che questa funzione è definita nell'intervallo 0, pi greco mezzi. Non ha importanza quale sia il dominio naturale di questa funzione che ovviamente è tutto l'insieme dei numeri reali. A noi interessa qual è il significato dell'angolo x, che sulla base dello schema che abbiamo fatto va da 0 quando il punto d coincide con il punto a, a pi greco mezzi quando il punto d si trova nella parte più bassa. Trattandosi di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato, è possibile applicare il teorema di Weierstrass e quindi esiste il massimo ed esiste il minimo assoluto di questa funzione. Probabilmente il minimo l'abbiamo già visto perché l'area del triangolo diventa 0 quando il punto d arriva qui sotto, il triangolo si schiaccia in un segmento. Il massimo abbiamo visto che dovrebbe stare più o meno in questa regione, però dobbiamo confermarlo con l'analisi di questa funzione. Andiamo a calcolare la derivata prima. A' di x è uguale derivata del primo fattore coseno di x, cioè meno seno di x, moltiplicato il secondo fattore preso senza derivazione, poi abbiamo un più il primo fattore non derivato coseno di x per la derivata del secondo fattore. La derivata del secondo fattore ci dà 0 sulla derivata di 1 e coseno di x sulla derivata del seno di x e quindi abbiamo a moltiplicare coseno di x. Eseguendo il prodotto otteniamo meno seno di x per 1 fa meno seno di x, meno seno di x per seno di x otteniamo meno sen quadro di x più coseno di x per coseno di x mi dà coseno di x. È utile, visto che dovremo studiare il segno di questa derivata, trasformare il coseno in seno mediante la relazione fondamentale della goniometria. Quindi al posto del coseno quadro di x scriveremo 1 meno sen quadro di x, relazione che avviene fuori dal fatto che coseno al quadrato di x più seno al quadrato di x fa 1, che porta esattamente a questa conclusione qui. Quindi possiamo effettuare le semplificazioni opportune. Abbiamo meno seno di x, meno sen sen quadro di x e meno sen quadro di x dà meno 2 sen quadro di x più 1. Quindi questo è il valore della derivata prima. Ora dobbiamo studiarne il segno e trovare gli zeri, tenendo conto ovviamente di questa condizione per quanto riguarda il dominio e quindi anche per i valori da utilizzare per la derivata. Per studiare la disequazione a primo di x maggiore o uguale a 0, ci ritroviamo con una disequazione goniometrica che è risolvibile con un cambiamento di variabile. Abbiamo infatti meno 2 sen quadro x meno sen x più 1 maggiore o uguale a 0, ordinato in ordine del grado attribuito alla funzione seno. Il cambiamento di variabile che possiamo fare è quello di assumere t uguale seno di x in modo tale che ci ritroviamo con una disequazione di secondo grado di natura algebrica, meno 2t al quadrato meno t più 1 maggiore o uguale a 0, disequazione che può essere studiata con il calcolo del delta, con una comune, con le regole che conosciamo per la disequazione di secondo grado. Quindi la riporto in un'altra pagina. Andiamo a calcolare il delta. Delta uguale a b al quadrato, 1, meno 4a per c, quindi significa meno 4 per meno 2 per 1 e quindi abbiamo 1 più 8 uguale 9. Per fortuna è un quadrato perfetto, i numeri che vengono fuori sono semplici. E quindi per le soluzioni dell'equazione associata abbiamo t uguale a meno b, cioè 1, più o meno la radice di delta, cioè 3, fratto 2 volte a, cioè meno 4. Con 1 meno 3 otteniamo meno 2 fratto meno 4, otteniamo un mezzo, invece 1 più 3 fratto meno 4 ci dà meno 1. Queste sono le soluzioni dell'equazione associata. e ci portano a scomporre il trinomio meno 2t al quadrato meno t più 1 nella seguente forma, meno 2 per t più 1 per t meno un mezzo. E dobbiamo studiare la disequazione col maggiore uguale a 0. Qui è opportuno un cambio di segno. Infatti il meno 2 lo facciamo diventare 2 cambiando il verso della disuguaglianza. E abbiamo 2 per t più 1 per t meno un mezzo, minore o uguale a 0. Si osservi subito che dal momento che nell'intervallo 0, pi greco mezzi adottato per la x, il seno dell'angolo assume sempre e solo valori positivi o al più nulli, questa definizione t uguale a seno di x ci assicura per quanto riguarda t i valori compresi tra 0 e 1. Si ha lo 0 in particolare per x uguale a pi greco mezzi. Per tutti gli altri valori t assume valori positivi, ma sicuramente non assume valori negativi. Per cui siamo certi che nel dominio considerato questo termine è maggiore o uguale a 0. Dal momento che t più 1 è maggiore o uguale a 0, il segno del tenomio è determinato soltanto da t meno un mezzo. Quindi la diseguazione è soddisfatta purché sia t meno un mezzo minore o uguale a 0 e quindi t minore uguale ad un mezzo. Ricordiamoci che questo porta, tenendo conto che t è uguale al seno di x, alla disequazione elementare goniometrica seno di x minore uguale a un mezzo, ricordandoci che x appartiene all'intervallo 0 e pi greco mezzi, laddove il seno è sempre positivo. A questo punto conviene tracciare una circonferenza goniometrica. Visto che lavoriamo soltanto su angoli compresi fra 0 e pi greco mezzi, è soltanto questa la regione del piano cartesiano che ci interessa. Gli angoli sono quindi compresi tra questo punto e questo punto. Inoltre, seno uguale a un mezzo significa che sull'asse delle ordinate dobbiamo individuare un punto che si trova esattamente a metà fra 0 e 1. Qui mettiamo un mezzo, tracciamo una linea orizzontale e otteniamo un punto sulla circonferenza goniometrica che identifica l'angolo che dà l'uguaglianza nella disequazione. Dovendo avere seno di x minore o uguale ad un mezzo, pur rimanendo il seno di x positivo, la parte che ci interessa in questo diagramma è la seguente. E quindi gli archi ed angoli corrispondenti stanno in questa regione. quindi abbiamo soluzioni per 0 minore o uguale x minore o uguale l'arcoseno di un mezzo, ma l'arcoseno di un mezzo vale pi greco sesti. A questo punto, per tutti gli altri angoli, abbiamo chiaramente un segno negativo per quanto riguarda la derivata. E allora possiamo tracciare il grafico di segno della derivata prima, mettendo gli estremi del dominio 0, pi greco mezzi e qui abbiamo pi greco terzi. Diciamo che pi greco sesti si trova più o meno in questa regione, non ha importanza che il grafico sia in scala. Mettiamo quindi le linee in corrispondenza dei capisaldi. Abbiamo un annullamento in corrispondenza di x uguale pi greco sesti, è probabilmente il nostro candidato estremo. Dopodiché, per x compreso fra 0 e pi greco sesti, la derivata è positiva ed è negativa a destra di pi greco sesti, fino a pi greco mezzi. Poiché la funzione qui risulta crescente e qui risulta decrescente, l'estremo relativo che abbiamo individuato è necessariamente l'estremo assoluto. Non c'è neanche bisogno di controllare gli estremi 0 e pi greco mezzi. Tra l'altro su pi greco mezzi abbiamo detto che l'area risulta nulla, quindi certamente non è il massimo che stiamo cercando. Il massimo si trova qui, è relativo e assoluto e ci conferma, come avevamo intuito nello schema, utilizzando GeoGebra, che variando l'angolo quando arriviamo intorno a pi greco mezzi sia l'area più grande possibile. Ce lo conferma qui l'analisi numerica, arriviamo a circa 1,3 r quadro proprio in corrispondenza di un angolo di 30 gradi, cioè pi greco sesti. A questo punto possiamo calcolare l'area massima per vedere se quel 1,3 è confermato. Torniamo quindi all'espressione dell'area, ricordiamoci che in unità di r quadro l'area è data da coseno di x per 1 più seno di x. Calcoliamo l'area per x uguale a pi greco sesti e otteniamo coseno di pi greco sesti per 1 più seno di pi greco sesti. Ricordiamoci, pi greco sesti corrisponde con 30 gradi per avere un'idea dell'ampiezza. Coseno di pi greco sesti notoriamente è radice di 3 fratto 2 e seno di pi greco sesti vale invece un mezzo, quindi abbiamo 1 più un mezzo. 1 più un mezzo fa 3 mezzi e abbiamo così 3 radice di 3 fratto 4. 3 moltiplicato la radice di 3 diviso 4 ci dà un risultato approssimativo di 1,299 e altro. Quindi diciamo che a due cifre significativi abbiamo 1,3 che è esattamente il valore arrotondato che ci viene mostrato da GeoGebra. Questo risulta essere il massimo dell'area ottenuto in corrispondenza di x uguale pi greco sesti. Adesso dobbiamo vedere se l'ottimizzazione del perimetro porta allo stesso risultato o a un risultato diverso. Torniamo quindi allo schema. Per calcolare il semiperimetro basta sommare il segmento di B con il segmento di F. Il triangolo ricordiamoci che è isoscele, quindi la somma di questi due segmenti dà effettivamente metà del perimetro. Df lo conosciamo già, l'abbiamo già calcolato in funzione dell'incognito da noi definita. Df è esattamente il coseno di x in unità del raggio. Per quanto riguarda il segmento BD non lo abbiamo ancora calcolato, ma conosciamo l'altezza BF che è sempre in unità del raggio e pari ad 1 più seno di x. Per cui possiamo utilizzare coseno di x e 1 più seno di x come cateti per calcolare l'ipotenusa di B attraverso il teorema di Pitagora. E allora BD, l'ipotenusa che stavamo cercando, è uguale alla radice quadrata di coseno al quadrato di x più 1 più seno di x al quadrato, che sono le lunghezze dei due cateti. Eseguiamo il prodotto del quadrato del binomio, cosen quadro x più quadrato 1 più quadrato, se è in quadro x, doppio prodotto del primo per il secondo e 2 seno di x. Si osserva inoltre che abbiamo la somma dei quadrati del coseno del seno dello stesso angolo e questi due insieme danno 1. Per cui otteniamo la radice di 1 più 1 più 2 seno di x, quindi la radice di 2 più 2 seno di x, ovvero radice di 2 per 1 più seno di x. Questa è la lunghezza del lato obliquo del triangolo. Sommando alla base, alla semibase del triangolo questa lunghezza, quindi abbiamo ottenuto db, sommiamo df che è pari a coseno di x, otteniamo finalmente il nostro semiperimetro e lo indichiamo con la lettera P. Rappresenterà la nostra funzione obiettivo per il perimetro. Bd più df, ovvero radice di 2 per 1 più seno di x più coseno di x. Ecco la seconda funzione obiettivo sulla quale dobbiamo effettuare una nuova ottimizzazione. Di questa funzione dovremo quindi calcolare la derivata e studiarne il segno. Calcoliamo la derivata prima. P' di x è uguale. Cominciamo con la radice. La trattiamo come funzione composta. Prima effettuiamo la derivata della radice che ci porta ad una derivata del denominatore con fattore 2. Dopodiché al numeratore compare la derivata del radicando, che chiaramente si può calcolare facilmente perché la derivata di 1 fa 0, la derivata del seno fa coseno e quindi abbiamo 2 volte coseno di x. 2 e 2 si semplifica. Infine abbiamo la derivata del coseno che fa meno seno di x. È utile portare allo stesso denominatore i due addendi della somma gebrica. il denominatore lo riportiamo. Al numeratore abbiamo coseno di x meno seno di x per la radice quadrata di 2 per 1 più seno di x. Rispetto al caso dell'area, studiare il segno di questa derivata è un po' meno agevole, però possiamo fare alcune considerazioni già abbastanza semplicemente. ricordandoci che il seno dell'angolo non è mai negativo nell'intervallo che abbiamo scelto di valore di x, sappiamo che il denominatore è sempre positivo, quindi non influisce sul segno. Quindi studiare il segno della derivata, p' di x maggiore o uguale a 0, comporta di fatto studiare la seguente disequazione, coseno di x meno seno di x per radice di 2 per 1 più seno di x maggiore o uguale a 0. Innanzitutto, prima di procedere con il calcolo, possiamo controllare per curiosità se la soluzione del primo problema di ottimizzazione, quello che riguarda l'area, che abbiamo ottenuto con un pi greco sesti come valore ottimizzante, va bene anche per il perimetro. Cioè proviamo a prendere questo pi greco sesti, a sostituirlo nel valore della derivata, in particolare nel numeratore, per vedere se si annulla. Effettivamente, se calcoliamo il coseno di pi greco sesti meno il seno di pi greco sesti per la radice di 2 per 1 più seno di pi greco sesti, otteniamo, andiamo a calcolare, uguale a 0, il che significa che la derivata del semiperimetro si annulla per x uguale a pi greco sesti. Ovviamente non è detto che sia l'unica soluzione e l'annullamento della derivata non è da sola conferma che si tratti di un massimo, però sicuramente stiamo andando nella giusta direzione, è probabile che sia così. Per farlo, per dare questa conferma, quindi riprendiamo questa disequazione e ne effettuiamo lo studio completo. Trattandosi in una disequazione goniometrica e con un'espressione irrazionale, conviene isolare la radice, quindi la scriviamo nella forma coseno di x maggiore uguale seno di x per radice di 2 per 1 più seno di x e teniamo conto che nell'intervallo di valori di x consentiti, cioè fra 0 e pi greco mezzi, tanto il coseno quanto il seno sono positivi, il radicando è sempre positivo, quindi possiamo impunemente elevare al quadrato primo e secondo membro mantenendo la disuguaglianza e abbiamo coseno al quadrato di x maggiore uguale seno al quadrato di x per 2 per 1 più seno di x e in questo modo la radice non c'è più. Eseguiamo i prodotti. A questo punto andiamo a trasformare il coseno in seno in modo tale che l'equazione contenga, la disequazione contenga una sola funzione goniometrica, precisamente il coseno in quadro x lo riscriviamo come 1 meno sen quadro, al solito sfruttando l'identità fondamentale della goniometria e quindi abbiamo 1 meno sen quadro x maggiore uguale a 2 sen quadro x più 2 seno al cubo di x. Adesso procediamo a portare tutto al primo membro e sommando i termini simili. Ci sono come termini simili meno sen quadro x e 2 sen quadro x. In questo modo abbiamo 1 meno 3 seno al quadrato di x meno 2 seno al cubo di x maggiore uguale a 0. Cambiamo disegno. 2 seno al cubo di x più 3 seno al quadrato di x meno 1 minore o uguale a 0. Ci ritroviamo con una disequazione in cui la x compare sempre sola all'interno della funzione seno. Quindi può essere risolta nuovamente con un cambio di variabile ponendo t uguale seno di x e ci ritroviamo con una disequazione algebrica. L'unico problema è che rispetto alla precedente, questa è un po' più complicata perché è di terzo grado, abbiamo 2t al cubo più 3t al quadrato meno 1 minore o uguale a 0. Possiamo tentare di risolvere questa disequazione scomponendo il trinomio con un raccoglimento parziale o in subordine con Ruffini. Il raccoglimento parziale potrebbe essere fatto in questo modo. Separiamo il 3t al quadrato in 2t al quadrato più t al quadrato, lasciando gli altri termini invariati per adesso. Abbiamo 2t alla terza più meno 1 minore o uguale a 0. Dopodiché, se raccogliamo insieme questi due e questi due, tra i primi due si può raccogliere a fattor comune 2t al quadrato e abbiamo 2t al quadrato per t più 1 e poi abbiamo un più t al quadrato meno 1 minore o uguale a 0. Si osserva subito che il risultato di un prodotto notevole è scomponibile come t più 1 per t meno 1 e quindi riscriviamo la disequazione come 2t al quadrato per t più 1 più t più 1 per t meno 1 minore o uguale a 0. E così ci accorgiamo che tra i due termini della somma c'è un fattore comune t più 1 e t più 1. Raccogliamo a fattor comune t più 1 e otteniamo 2t al quadrato e più t meno 1 minore o uguale a 0. Su questa disequazione possiamo già fare una prima semplificazione. Siamo sicuri che t non assume mai i valori negativi, quindi nell'intervallo di x appartenente a 0, y mezzi il valore di t è compreso nell'intervallo 0, 1 e quindi questo termine è certamente strettamente maggiore di 0 e quindi può essere semplificato. E ci ritroviamo con la semplice disequazione di secondo grado 2t al quadrato più t meno 1 minore o uguale a 0. Questa disequazione può essere risolta facilmente calcolando il delta dell'equazione associata oppure anche qui possiamo adottare la stessa strategia, cioè dividere 2t al quadrato in t al quadrato più t al quadrato e riscrivere in questo modo t quadro più t quadro più t meno 1 e adesso, sempre col minore o uguale a 0, e adesso associamo insieme questo termine con questo e questo con questo. Quindi tra il primo e il terzo si può mettere in evidenza una t e abbiamo t per t più 1 più t al quadrato meno 1 minore o uguale a 0. Ancora una volta qui ci ritroviamo con il prodotto notevole t quadro meno 1 che si scompone in t più 1 per t meno 1 e così troviamo di nuovo t per t più 1 più t più 1 per t meno 1 minore o uguale a 0 e come vediamo di nuovo compare il fattore comune t più 1 che quindi possiamo raccogliere. E abbiamo t più 1 per t più t meno 1 che rimane dentro parentesi. Per lo stesso ragionamento di prima t più 1 è sempre positivo, strettamente positivo e può essere semplificato e quindi la disequazione diventa semplicemente 2t, la somma di questi due, meno 1 minore o uguale a 0 e quindi la disequazione di terzo grado è diventata di primo e abbiamo 2t minore o uguale a 1 e infine t minore o uguale a un mezzo. Adesso che abbiamo ottenuto questa semplice soluzione ricordiamoci che questo porta ad una disequazione goniometrica elementare cioè seno di x minore o uguale a un mezzo, esattamente la stessa disequazione che abbiamo ottenuto nel caso dell'area, dello studio dell'area. Ci portiamo qui, abbiamo visto che questa stessa disequazione ha portato come soluzioni a 0 minore o uguale a x minore o uguale pi greco mezzi e alle stesse conclusioni per quanto riguarda lo studio del segno, cioè abbiamo valori positivi della derivata fra 0 e pi greco sesti e valori negativi fra pi greco sesti e pi greco mezzi e quindi anche nel caso del perimetro si arriva alla conclusione che il massimo sia in corrispondenza di pi greco sesti. L'unica cosa che dobbiamo fare a questo punto è andare a prendere la funzione che esprime il perimetro, sostituire pi greco sesti e vedere quant'è il perimetro massimo per vedere se il valore dato da GeoGebra è compatibile. Sostituiamo a questa funzione che esprime il perimetro il risultato della x che ci dà il massimo, cioè pi greco sesti, e otteniamo perimetro massimo, cioè pi di pi greco sesti, semi perimetro massimo, uguale a radice di 2 per 1 più seno di pi greco sesti più coseno di pi greco sesti uguale alla radice di 2 per 1 più seno di pi greco sesti fa un mezzo, mentre il coseno di pi greco sesti fa radice di 3 fratto 2. Otteniamo così 1 più un mezzo fa 3 mezzi, si semplifica il 2 con il 2, abbiamo radice di 3 più radice di 3 mezzi, ovvero 3 radice di 3 fratto 2, e quindi ha due cifre significative 2,6. Ricordiamoci che è sempre in unità del raggio. In GeoGebra, se notiamo, il valore massimo si ottiene, per quanto riguarda il perimetro, il valore massimo è proprio 2,6 a due cifre significative, andando proprio in un angolo che è circa pi greco sesti, chiaramente con l'approssimazione che si può avere, modificando manualmente la posizione del punto D. ha conferma che l'analisi grafica è supportata dalle conclusioni tenute con l'indagine analitica.